Si è reso necessario questo progetto di legge perché la legge vigente, intanto parliamo di accreditamento e autorizzazione delle strutture socio-assistenziali e socio-educative. Il progetto di legge vigente è obsoleta, è di 16 anni fa, del 2005, non ha mai prodotto il regolamento attuativo, quindi voi immaginate, la Regione Abruzzo ha lasciato nel caos tutte le strutture esistenti, ognuno ha fatto quello che voleva, senza un regolamento attuativo, quindi la nostra proposta di legge parte anche da un'altra criticità, che la legge vigente presenta carenze, mancano requisiti organizzativi, strutturali, di personale, manca addirittura un'anagrafe unica di tutte le strutture in Regione Abruzzo, non è mai stato fatto un censimento, quindi non sappiamo quante strutture ci sono, ed è gravissimo che ci sono ancora competenze in capo alle province che non ci devono essere più, che non devono essere abolite. La nostra legge prevede dei requisiti stringenti, che ogni struttura deve insistere in aree che permettono la vita sociale, le attività collettive dei propri ospiti, deve prevedere degli operatori sanitari, sociali, educativi, qualificati, con titoli di studio adeguati, un responsabile, un coordinatore della struttura, addirittura la novità, vogliamo che per ogni ospite di queste strutture vi siano dei piani educativi individuali, dei piani assistenziali individuali per veramente recuperare e guarire gli ospiti, non vogliamo più che ci siano strutture che servono solo per prendere soldi pubblici, le strutture devono recuperare gli ospiti. Questa nostra proposta prevede altresì che entro 120 giorni la Regione deve emanare un regolamento e nei successivi 60 giorni la Giunta deve emanare una direttiva che stabilisca le modalità per autorizzarsi ed accreditarsi. Poi abbiamo messo un servizio di vigilanza forte, importante, che possa vigilare i suoi requisiti. Chi perde i requisiti deve andare a casa, non può essere più autorizzato e accreditato dalla Regione Abruzzo. Questa è una grande riforma, una riforma che serve soprattutto nel periodo di pandemia, perché attenzione a chi è rivolta questa legge, agli anziani, ai minori, ai disabili, alle donne vittime di violenza e a tutti coloro che necessitano un'assistenza familiare che non ce l'hanno, quindi a tutta la fragilità e la disabilità della Regione Abruzzo. Non dimenticate che ci sono state inchieste, che hanno investito anche inchieste giudiziarie, che hanno investito le strutture. Quindi noi vogliamo che ci sia chiarezza con la nostra norma. Da questo momento in poi la fragilità e gli anziani e i disabili nella nostra Regione con la nostra legge, se verrà approvata, vi sarà solamente dignità e benessere.